Arrivano, metà mese arrivano Zelensky, arriva Taremi, arriva Martinez, portiere, e poi siamo indirittura ad arrivo anche per Gudmundsson. Eh, questa Inter quanta strada che ha fatto, dall'essere falliti, hai capito, dalla serie D, porca puttana, ne abbiamo fatta strada Stella, o no? Gobbi di merda, è vero o no, ne abbiamo fatta strada, ma poi come è finita gli avvocati lì, cosa state combinando, cosa state facendo? È un'estate dura questa, eh, lo so, a lei è un'estate dura, eh, lo so, tra poco andiamo al mare, eh, belli come il sole, e tu che rosichi.